quello che contraddistingue ciò che ho scoperto mi porta a definirlo oro perché c'è proprio una trasmutazione alchemica dal piombo all'oro non soltanto dell'aspetto sessuale e quindi per far comprendere magari a chi non conosce questa pratica il tantra nasce come incontro di anime che vivono un'esperienza nel corpo e quindi la sessualità diventa un ponte per raggiungere il divino il sesso non è più finalizzato a un appagamento legato al piacere ma diventa una strada di conoscenza che ci porta a riconoscere il divino che è in noi e in modo particolare alla donna al risveglio di quella dea che solitamente è dormiente e quindi questo fuoco dell'energia sessuale va ad attivare questo processo energetico di risveglio cellulare e attivare addirittura la mente cosmica al punto da favorire il processo di autoguarigione molto interessante grazie di cuore e colgo l'occasione per parlare anche del progetto camper tour in relazione anche alle scuole e alla meditazione del cuore che aiuta a comprendere il significato profondo di amore cosmico e per quanto riguarda il film documentario il sentiero della gioia è un altro progetto che riesce a coinvolgere i bambini affinché possano comprendere che nelle difficoltà si nascondono delle opportunità vorrei inoltre parlarvi del camper come vedete targato mi oro e questo è stato un segnale inequivocabile affinché io potessi acquistarlo e decidere di iniziare il camper tour e avere uno studio olistico su ruote e poter offrire consulenze presentare il libro nelle città italiane e offrire la possibilità di sperimentare il massaggio kundalini e ora vi porterò a fare un giro a bordo del camper mi oro questa è l'entrata e poi c'è la possibilità di accomodarsi per togliersi le scarpe e poi qui c'è una dinette dove ci si può accomodare per prendere una tisana e fare una consulenza tantrica o life coach e per chi desidera sperimentare i miei trattamenti personalizzati ecco che la dinette si trasforma in futon ed è possibile sperimentare il massaggio zen o il massaggio kundalini e quindi adesso vi mostro il bagno che per essere un camper vi posso assicurare che è molto confortevole eccolo qui guardate con i vostri occhi quanto sia bello spazioso e accogliente il mio indirizzo email è info chiocciola annasenatore.com vi invito quindi a contattarmi io vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico